Preghiera e speranza sono strettamente connesse, la prima infatti porta avanti nella seconda, soprattutto nei momenti bui dell'esistenza. Nella Catechesi dell'Udienza Generale, Papa Francesco ha proseguito a riflettere sul tema della speranza, mettendo a fuoco il caso di Giona, la cui vicenda parla della misericordia di Dio che perdona. Il profeta decide di scappare dalla sua missione e durante la fuga viene a contatto con dei pagani, i marinai della nave su cui si imbarca. Una violenta tempesta coglie il bastimento durante la traversata e il capitano chiede a Giona di pregare per la salvezza di tutti, nonostante l'imminente pericolo di morte. L'istintivo orrore del morire svella la necessità di sperare nel Dio della vita. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Sono le parole della speranza che diventa preghiera, quella supplica colma di angoscia che sale alle labbra dell'uomo davanti a un imminente pericolo di morte. Troppo facilmente noi disegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse solo una preghiera interessata e perciò imperfetta. Ma Dio conosce la nostra debolezza. Sa che ci ricordiamo di Lui per chiedere aiuto e con il sorriso indulgente di un padre Dio risponde benevolmente. Nei saluti in lingua tedesca il Pontefice ha poi ricordato l'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e il suo recente viaggio in Svezia. In Europa questa comune fede in Cristo è come un filo verde di speranza, ha detto apparteniamo gli uni agli altri. Comunione, riconciliazione e unità sono possibili. Come cristiani abbiamo la responsabilità di questo messaggio e dobbiamo testimoniarlo con la nostra vita.